I primi effetti dell'allerta rossa saranno visibili da venerdì sulle strade. Sono circa 3.000, secondo una stima di Confartigianato Padova, i furgoni costretti a rimanere in garage. Furgoni tutt'altro che da rottamare. Sono furgoni recenti quelli che si fermeranno? Sì, purtroppo va a colpire anche automezzi e quindi furgoni che hanno meno di 10 anni, hanno 7-8 anni e quindi operativi al massimo. Soprattutto bisogna considerare che i nostri furgoni girando all'interno della città o della prima provincia vuol dire che fanno anche pochi chilometri. Ma soprattutto bisogna pensare a molti miei colleghi che avendo un solo furgone che rappresenta il loro ufficio, la loro azienda e tutto, vuol dire che loro rimangono a casa del tutto. Degli artigiani arriva un appello. Che siano solamente i furgoni il problema dell'inquinamento, siamo ovviamente sbigottiti. Ecco perché richiediamo nuovamente al Comune, a tutte le autorità competenti, che non ci sia solo il problema furgoni, ma ci sia il problema inquinamento, visto anche a partire dalle caldaie. Su questo quindi facciamo un appello a tutte le autorità, affinché non blochino il nostro lavoro. Il nostro lavoro vuol dire anche i nostri dipendenti. Servono più incentivi per il cambio dei veicoli inquinanti, anche se resta impossibile o quasi per una piccola azienda, l'acquisto di un furgone elettrico da 50.000 euro. È un'azione sinergica a 360 gradi, secondo artigiani e commercianti. Intanto questi sono i dati diffusi in queste ore dalle Gambiente. 200 le morti premature ogni anno a Padova a causa dell'inquinamento. Va proposto subito il road pricing, ovvero l'applicazione di un ticket ai mezzi più inquinanti che entrano nell'anello delle tangenziali.